Ci eravamo rassicurati intorno a un debito che valeva comunque il 25% in più del nostro PIL. Ma sì, tutto bene, la Grecia era fallita al 125% esatto, ma noi siamo diversi, vero? Poi però ci siamo risvegliati al 133% di rapporto tra debito e PIL, peggio di prima. Lo spread non fa più una piega, ma l'Italia, dicono, sta meglio. Basta con quei duelli tra poveri, testa a testa sul differenziale con la Spagna. Siamo migliori? Più o meno a un certo punto ci siamo convinti, cioè, che fosse finita. Il debito pubblico saliva, ma lo spread, che ne è termometro, era sparito dai radar. Il più grande vizio della finanza pubblica italiana che mai nessun governa corretto, ignorato. Fino a due giorni fa, Europa giudice, proprio per quel famoso rapporto tra debito e PIL. Un paese che non cresce, non crea lavoro, che non dà spazio ai giovani, era già un miracolo che venisse graziato. Ma quel processo di rimozione collettiva ci aveva dato respiro. Letta dice che il debito pubblico è alto, ma ora sta scendendo. Ma davvero sta scendendo? Fra un paio di mesi, statistica alla mano, avremo la prova se l'emissione di 22 miliardi di BTP tricolori non avranno avuto, tra i tanti benefici promessi, anche quello di non aver aumentato il monte dei nostri debiti. I titoli di Stato lo fanno. Nel frattempo, quel che si sa, è che quel monte cresce di 70-80 miliardi all'anno, cioè 9 milioni all'ora, ovvero 2.500 euro al secondo. Per la prima volta il debito che era in lire salì sopra il corrispondente di 1.000 miliardi di euro nel 1994 con Berlusconi. Sopra i 2.000 lo fece con Mario Monti, statistica e anche storia. Come quella che regala al passaggio tra Prodi e Berlusconi tra il 2008 e il 2009 il più alto sbalzo nel rapporto tra debito e PIL, un circa 10% che in euro vale decine di miliardi evaporati con il debito, ma anche con la mancata crescita. Se ora ci risiamo, si comincerà a vederlo da domani, con i soliti ignoti che fin quando ha fatto comodo hanno reso il debito e lo spread oggetti speculativi. Il debito per inciso si riduce vendendo gioielli di Stato, questo è il percorso previsto, oppure il debito si alleggerisce indirettamente se il paese cresce, ma questo è noto essere un percorso ben più complicato. Il debito scende anche se lo Stato taglia, risparmia, promesso anche questo, ma è il nostro di debito. È spalmato tra investitori internazionali, quello in mani nostre finalmente cresce, ma che sia in mano per lo più a banche nazionali che non scoppiano di salute lo rende ancora pericoloso e indimenticabile.